E' stata presentata la festa del patrono di Carpi che si terrà il 20 maggio San Bernardino da Siena. Il programma dura tutta la settimana dal 14 al 22 maggio. La festa del patrono, come l'ha definita il sindaco Enrico Campedelli alla conferenza stampa di presentazione, ci offre momenti di allegria, riflessione e comunità. Una serie di iniziative religiose e laiche la rendono la festa di tutta la città. Sento aumentare, dice, una tensione positiva verso quest'evento, quest'anno reso ancora più importante dai 500 anni della piazza. Un elemento importante per tutti noi, un elemento identitario per ciascun carpigiano. Il patrono risulta essere un'opportunità di coesione sociale e l'intervento del vescovo è iniziato proprio partendo da questo fatto. La festa patronale, ha osservato il Monsignor Francesco Cavina, appaga il desiderio di ogni uomo di aggregazione. Vede coinvolte tantissime persone preoccupate di riscoprire il senso e il valore della comunità. E Adamo Neri, presidente del comitato organizzatore della festa del patrono, ha ringraziato tutti i componenti, volontari che si riuniscono da ottobre per realizzare questa festa che si autofinanzia completamente. Tre grandi valori caratterizzano la festa, convivenza, pace e solidarietà. Non a caso, dice, abbiamo istituito il premio Mammanina che vuole evidenziare il valore della solidarietà. Una festa di tutta la città, per i credenti e non credenti, quindi grandi valori della pace, della solidarietà, della convivenza civile. Quindi le nostre iniziative sono per tutti. Finalmente siamo riusciti, anno per anno, ad aggiungere qualcosa. Ci sarà questo inizio con questa messa di Requiem di Verdi, una cosa eccezionale a livello nazionale, che darà il via come riflessione a tutta la festa. E all'interno degli eventi della festa del patrono c'è anche la giornata degli studenti, che inizierà sabato 19 maggio alle 10 e mezza di mattina presso il Teatro Comunale di Carpi, con il musical Believe Me, interpretato dagli studenti dell'Istituto Da Vinci e del Liceo Fanti. Coordinamento e testi a cura di Paola Marzetti, regia di Francesco Morri e Simone Olivieri. A seguire la presentazione a tutte le scuole del progetto Believe Me, di cui è responsabile l'insegnante Ernesto Giocolano. Quest'anno abbiamo lavorato sul tema della speranza, soprattutto in questo contesto estremamente difficile, crisi economica, finanziaria, crisi energetica, crisi ambientale. Durante questa situazione la domanda è che cosa possiamo fare, che cosa possono fare i giovani oggi. Quindi abbiamo riflettuto su questo tema, ci siamo ispirati a un film, un sogno per domani, dove un professore dice pensate a un'idea per migliorare il mondo e mettetela in pratica. E noi abbiamo voluto proprio fare una cosa del genere. Una parte, il classico musical, quindi una parte teatrale, e a seguire una proposta concreta. Questo progetto che si chiama Believe Me, che significa proprio credimi, la cosa che ognuno di noi possiede è il tempo. E quindi, prendendo spunto dalla banca del tempo, abbiamo cercato di riproporre la stessa realtà nella nostra scuola, in modo particolare all'ITIS, Leonardo da Vinci di Carpi. Abbiamo sperimentato questo progetto sfruttando il tempo, ma solo il tempo abbiamo accorto che non bastava. Allora abbiamo aggiunto anche il discorso di questo scambio di oggetti. Quindi oggetti e tempo, è tutto unito da una moneta che abbiamo chiamato Credimi, proprio perché poteva dare questo significato di fiducia. L'esperimento sta funzionando bene e sabato 19 maggio presenteremo questo progetto a tutte le scuole di Carpi.